Filo diretto Pescara Verona sul fronte mercato. La società Bianca Azzurra ha lavoro per completare l'organico ma allo stesso tempo per cercare di cedere quei calciatori in esubero potrebbe chiudere con gli scaligeri una maxi operazione che porterebbe in riva all'Adriatico oltre a Zampano anche il difensore Gonzales, l'attaccante Torregrossa ed il 22enne centrocampista Mattia Valoti. Il ritorno di Donnarumma al Teramo mette infatti il Pescara nelle condizioni di dover reperire sul mercato uno se non due attaccanti di peso. Sempre sul fronte attacco la società Bianca Azzurra lavora anche su altre piste come quella di Falcinelli. L'ex lancianese l'anno scorso a Perugia era stato seguito dalla società Bianca Azzurra anche nella passata stagione. Comprare ma anche vendere l'esigenza del Delfino è anche quella di spoltire un organico oltremodo numeroso. Con gli arrivi a pizzo ferrato di Ciosic, Fiorillo, Mitrita e Mandragora è stata toccata quota 39 calciatori. È vero che molti giovani torneranno alla primavera e andranno a farsi le ossa nelle serie minori ma ci sarà da cedere qualche pezzo pregiato. Sulla lista di partenza ci sono fra gli altri Bunoza, Bruno, Nilsen, Grillo, Pesoli, Ciosic e Aresti. Domani a pizzo ferrato intanto arriverà il presidente Daniele Sebastiani che nel pomeriggio parteciperà ad un convegno con i presidenti di Lanciano e Teramo, Valentina Maio e Luciano Campitelli. Poi in serata alla presenza dell'amministratore delegato Danilo Iannascoli ci sarà la presentazione della squadra nella piazza di pizzo ferrato. Domenica alle 17 la prima uscita ufficiale dei Biancazzurri di Massimo Oddo contro una rappresentativa dilettantistica locale.